La legittima difesa, voglia di farsi giustizia da soli, armi in casa per respingere eventuali assalti di ladri o rapinatori. Il dibattito è ancora aperto e difficilmente la scia di polemiche cesserà in breve tempo. In tutte le parti del mondo il problema dell'arma facile è stato valutato e spesso sottovalutato. Basti pensare a quanti fucile e pistole sono disseminate nei territori degli Stati Uniti per non parlare di armi che continuano a girare senza tregua da una parte all'altra del globo. Ma la pistola serve a qualcosa? Sicuramente non per difendersi e tantomeno per intimorire l'eventuale avversario. Indro Montanelli, grande giornalista ferito dalle Brigate Rosse, sosteneva che portare con sé un'arma significa usarla altrimenti se l'avversario si accorge che sei armato spara prima di te. Ma la voglia di usare i mezzi di offesa sembra interessare solo a parole. L'altro giorno il Consiglio Comunale di Milano, a larga maggioranza, ha chiesto al Sindaco Sala di non dotare i vigili urbani, cioè alla Polizia Municipale, di taser, la pistola elettrica che paralizza senza uccidere. Giustamente i consiglieri hanno sottolineato che i vigili devono assolvere come loro compito principale alla viabilità. Speriamo non soltanto alle multe.